Sono Alessio, ho 31 anni, vengo da Trieste, sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze, ho 31 anni, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità. Sostanzialmente il problema è che la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua. Vogliamo cose differenti. Non si possono volere cose più differenti di così. Non sposarsi, voglio assolutamente sposarmi. Questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo. Io non riesco a immaginare, onestamente, ma lo sai benissimo. Sì, allora che facciamo insieme?